benvenuti in una nuova lezione da christian di play lover ok oggi rispondiamo ad un quesito che è stato posto da uno dei nostri seguaci più attivi sulla community di youtube che è il seguente come sarà il mondo delle relazioni relazioni post covid ok mi sembra che questo quesito sia stato posto da carlo forse sì forse è stato lui vabbè lui sa insomma che sto parlando allora 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 andiamo subito a definire quella che è la mia visione delle cose vuol dire mia opinione personale ok dal mio punto di vista ci saranno sostanzialmente due periodi ci sarà un transitorio transitorio e ci sarà un periodo in cui torneremo a regime ok quindi ci sarà una sorta di transizione graduale da quella che è questa situazione attuale alla situazione finale andiamo a fare delle considerazioni di tutto ciò che sostanzialmente avverrà nella condizione anzi prendo il nero nella condizione del transitorio perché sostanzialmente viviamo in questa situazione anormale da più di un anno ok quindi sostanzialmente per noi questa situazione anormale è diventata normale perché dura da moltissimo tempo ok quindi cosa accadrà in questo tipo in questa in questa fase in questa fase secondo me gli appuntamenti saranno condizionati appuntamenti condizionati che cosa significa significa che magari si organizzeranno solo dei pranzi ok perché chiaramente il rilascio della vita normale sarà graduale come abbiamo detto oppure addirittura la ragazza potrebbe chiederti se ti sei vaccinato se hai fatto un vaccino piuttosto che un altro potrebbe chiederti il certificato verde non lo so che ci sono tante tanti condizionamenti che potrebbero essere apportati e che potrebbero influire in questa fase di transizione ok un secondo elemento sicuramente sarà l'uso delle mascherine perché continueremo ad utilizzare la mascherina soprattutto negli ambienti chiusi per un bel po di tempo ok ed è ormai mi sembra da più di un anno che sia più di un anno che utilizziamo la mascherina e che questa sostanzialmente è obbligatoria e un terzo punto è sicuramente quello che riguarda le conoscenze conoscenze uomo donna limitate limitate che quindi in un qualche modo potranno avvenire solo di giorno oppure in chat non saranno libere di manifestarsi dalla mattina alla sera ma in questa fase di transizione probabilmente avremo ancora a che fare con questo tipo di limite perché il coprifuoco sarà ancora presente ma gradualmente sostanzialmente la situazione passerà da qua a qua e quindi andranno a spegnere via 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 i vari semafori rossi i quali diventeranno verdi e sostanzialmente andiamo poi a rivedere quelle che saranno le condizioni finali le conoscenze uomo donna torneranno a essere libere ok quindi in un qualche modo si potrà conoscere di giorno ci si potrà conoscere in chat e ci si potrà conoscere anche di sera scrivo vabbè lo avete capito giorno giorno e chat ok giorno e chat è lo spazio ho preferito scrivere libere quindi giorno sera e chat ok quindi abbiamo detto che gradualmente il coprifuoco verrà meno quindi fine coprifuoco prima o dopo quando praticamente tutti saranno vaccinati ci sarà anche lo stop all'uso delle mascherine tra l'altro io non ne posso più soprattutto adesso che sta arrivando la bella stagione e torneremo ad avere gli classici appuntamenti quindi appuntamenti appuntamenti classici quindi io non mi farei tante aspettative su come sarà il mondo delle relazioni post covid perché dal mio punto di vista torneremo ad una situazione di graduale normalità che la storia insegna su questo secondo me e avremo sicuramente un periodo di transitorio dove ancora gli appuntamenti ne risentiranno perché saranno condizionati quindi potrete fare solo dei pranzi delle passeggiate eccetera eccetera e dovremo indossare ancora la mascherina le conoscenze uomo donne a causa del coprifuoco saranno ancora limitate a quelle diurne e alle conoscenze chat sulle chat sui siti di incontri eccetera eccetera ma gradualmente passeremo ad una condizione di regime dove sostanzialmente i locali riapriranno e quindi si potrà conoscere il giorno di sera e in chat il coprifuoco verrà interrotto le mascherine non saranno più utilizzate e torneremo a vivere in libertà potendo fare classici appuntamenti e quindi